Dopo il primo urra di due settimane primo, tenuto in casa dalla San Maurese, la marignanese cattolica 1923 cerca il primo successo a domicilio. Al Calbi arriva l'ostacolo Ghivizzano, che nonostante una classifica deficitaria sette giorni prima aveva messo in difficoltà la capolista Prato, uscendo sconfitta di misura. Prima del calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento nel ricordo di Paolo Rossi, scomparso in settimana. Arbita la gara il signor tagliente della sezione di Brindisi. Con le immagini assistiamo a un primo tempo monotono. La gara è avara di emozioni, primo squilli a cura di Manuzzi. Pagnini controlla la traiettoria. La reazione ospite è affidata a questo timido tentativo di Brunozzi. Piai corre sogni tranquilli, mentre dall'altra parte Rizzitelli in gol due settimane prima. Dalla destra lascia partire un traversone sul quale sia Merlonghi che Manuzzi mancano l'appuntamento per la battuta. Allora il grido di vittoria arriva da Capitan Gaiola, ma la conclusione è da dimenticare. Primo piano per il Capitano dei Cattolichini. Per vedere il primo tiro in porta occorre aspettare 35 minuti. Quando Manuzzi inventa, Pagnini risponde presente, alzando questo pallone sopra la traversa. Ci prova anche Rizzitelli, ma l'attaccante non impatta bene il pallone, che si perde abbondantemente a lato. A seguirlo è il compagno di squadra Manuzzi, sicuramente tra i più attivi, ma la porta è lontana. In chiusura di tempo si rivedono anche gli ospiti con questo calcio piazzato di Bartolini che non inquadra il bersaglio. Squadra riposo sullo 0-0. Nella ripresa il ritmo della gara sale. Le squadre giocano con maggiore intensità, anche se i portieri raramente vengono chiamati in causa, se non in questo caso, quando al secondo minuto il colpo di testa di Messina fa gridare a gol i biancorossi. Piai esegue un intervento sicuro. L'estremo di casa deve intervenire su questa discesa irresistibile di Brunozzi. I romagnoli salgono a questo punto in cattedra e quando Merlunghi esegue una Veronica in area di rigore, il pallone viene scaraventato sul piede caldo di Terenzi, che chiama all'intervento distinto Pagnini. I padori di casa insistono, Manuzzi porta a spasso il pallone, apre per Merlunghi, il quale impatta male il pallone, che a sorpresa diviene invitante per la corrente Rizzitelli, che non riesce ad agganciare il suggerimento del compagno. Dal conseguente corner, Manuzzi scodella per Nodari. Il colpo di testa di centrale difensivo, risultato vincente col progresso, termina questa volta a lato. Al ventinovesimo i padori di casa recriminano per un intervento scomposto su Go. I giallorossi vorrebbero il penalty. L'arbitro ben appostato facendo di proseguire. A velocità ridotta proviamo a misurare l'intervento su Go ad opera dei difensori ospiti. Gli ospiti provano a uscire dalla propria area di rigore. Brunozzi calcia sull'esterno della rete. Il finale è quello che reca più emozioni. Di questo match, Gotte ruba palla, fa tutto bene, mette a sedere il diretto marcatore, ma calcia incredibilmente alle stelle. Primo piano per l'attaccante entrato nel corso della ripresa. E da classico gol divorato arriva il puntuale contro a colpo del Ghivizzano. Dall'angolo di Bartolini, Andreotti, che non ha nulla a che fare con l'allora politico Giulio, indovina il colpo di testa vincente, che sa di urlo liberatorio per un rilancio in classifica dei biancorossi. Che condanna la marignanese cattolica 1923 a una sconfitta severa sul piano del risultato e che diviene preoccupante in virtù dei prossimi due impegni che vedranno i giallorussi opposti a Correggese e Lentigione. Chi vivrà vedrà, ma quantomeno si torna a parlare di calcio giocato.